Il mio occhio e il mio cuore sono in guerra mortale su come spartirsi le spoglie della tua visione. Il mio occhio vuol sbarrare al mio cuore la vista del tuo ritratto. Il mio cuore ha al mio occhio il libero accesso a questo diritto. Il mio cuore argomenta che tu risiedi in lui, scrigno mai penetrato da occhi cristallini. Ma il confidente rifiuta questo argomento e dice che in lui dimora il tuo bell'aspetto. Per decidere su tale diritto è insediata una giuria di pensieri, tutti i vassalli del cuore. E con loro verdetto viene determinata la porzione del chiaro occhio e la parte del caro cuore. In questo modo spetta al mio occhio la tua parte esteriore e diritto del mio cuore è l'intimo amore tuo. Allora 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 Grazie a tutti.